Buongiorno, che cosa ha detto il vostro assistito? Allora, il nostro assistito ha dichiarato di non avere nulla a che vedere con l'asparizione della ragazza. Quindi non si è a falso? Ha rilasciato spontanee dichiarazioni e ha manifestato l'intenzione di rendere le dichiarazioni più approfondite al pubblico ministero nei prossimi giorni. Dopo un approfondito esame dedicato con un sottoscritto e con l'Avvocato Scharcella e un confronto un po' più approfondito rispetto a quello che c'è stato in questi pochissimi due giorni. Anche perché ha difficoltà a parlare in italiano, in parola in italiana, quindi ogni incontro deve essere supportato dall'interprete, quindi abbiamo bisogno di un po' più di tempo. Però ha manifestato la volontà di voler spiegare il proprio movimento, ma qualsiasi in relazione ai giorni di cui si tratta, sia in relazione poi al suo allontanamento, al territorio nazionale. Per rispetto alla pala al piede di corco? Perché si trovava in presso? Non abbiamo altre dichiarazioni. Nel terazzo del corpo? Non abbiamo altre dichiarazioni. Per ora non abbiamo altre dichiarazioni. In che condizioni si trovano? Sta bene fisicamente? Non lo stavo, non lo stavo, non lo stavo. Cosa facesse in quel video? Per favore. Grazie. Andiamoci qua. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voleremo prendere l'interazione si è approfondita al pubblico. Adesso basta, grazie. Ma di queste spontanee dichiarazioni che cosa avrete in sostanza? Ha espresso la propria estranetà rispetto alla scomparsa di Saman. Grazie. Però abbiamo anche la dichiarazione.